Connessione eccellente, dice Connessione eccellente Te rasmetti dal vivo E dovremmo essere ufficialmente Eccoci qua, perfetto Perché quando fai la premiera è sempre difficile Ah, quando fai il programmato, non la premiera Sì, programmato, esatto, scusami È sempre complicato, ma ce l'ho dovuto fare Credo che ci siamo, giusto? Sì, sì, ci siamo, ci siamo Buongiorno Non fa male un dente, non riesco a parlare Ha un dente del giudizio che sta spuntando Che poi Steph fai preoccupare tutti Sembrano cose strane E quindi Steph ha la bocca un po' bloccata da due giorni Un po' tanto bloccata Questo è perché non si è fatti togliere insieme a me E quindi adesso ne paga le conseguenze Ma malissimo Allora, non so come Questa è la magia di YouTube Siamo passati da 8500 persone a 3000 Mi sembra molto positivo Ok, grazie YouTube Cosa ne pensi, Fede? Sì, sì, sì Probabilmente si è chiuso quello che stavano guardando prima Non lo so, Steph Utile allora Non ho capito Quindi le persone poi devono trovare questa live Non lo so Perché anche io effettivamente stavo aspettando il programmato Poi è scomparso Ho dovuto riaggiornare e trovare la live Non ha senso Poi è andata così Ok, siamo tornati 8000 in questo momento Ah, ecco, dai Ciao a tutti quelli che stanno entrando adesso Sono felice di vedere che siete così tanti Noi siamo prontissimi alla guerra Allora, prima di tutto Ovviamente, dato che la guerra inizierà alle 18 in punto Vuol dire che alle 18 si inizierà a combattere Ok, prima di tutto noi ci vogliamo un attimino equipaggiare Teoricamente Mark, Marce e tutti quanti hanno tryhardato come dei cinghiali Esatto Hanno formato tantissimo E di conseguenza dovrebbero avere tantissime cose che utilizzeremo noi per combattere Perché noi non abbiamo fatto nulla Come sempre Oh, salve Salve Buongiorno Inchino Allora Dove sei? E sono alla torre di Kendall Che infatti ho incontrato Kendall ironicamente E adesso mi sa che andiamo da Mark Che è qua sotto Però, prima di tutto, su TeamSpeak Ok Allora Cambio stanza È qui Dov'è finito? Dov'è lui? È qua È qui Signor Mark È mutato Eccolo Eccolo Ciao Stef Ciao Fere Come state? Bene Tutto bene Tu sei prontissimo? Prontissimi Fere Prontissimi Ma quanta roba c'è qui dentro? Scusami Allora Fere, viene anche tu? Stefo, io ho un cambio di armatura per te Se lo vuoi nel caso Anche Beh, sei più forte del mio Direi di sì Allora, se vuoi facciamo un test al volo Per vedere Ok Sto arrivando, eccomi Ciao Fere Ciao Allora, per Fere l'elmetto non serve perché appunto ha la corona Esatto Quindi su questo siamo sicuri Allora Stef, io per l'elmetto ho Unbreaking 3 Protection 4 Acqua finiti E respiration 3 Ok È più forte perché non ho unbreaking Ok Tieni questo allora Vai Cambiamolo Perfetto Leo, grazie il time Però tieni questi che li teniamo di scorta Ok No, sì sì Tutto quello che abbiamo teniamo di scorta ovviamente Ok Poi ho un protection 4 Tonus 3 Unbreaking 3 Alla chestplate Ok, più forte Ok, tieni Assolutamente Poi ho Gambali con unbreaking 3 Protection 4 Ok Solo protection 4 Quindi è più forte Tieni Ok Non so quali hai preso Mettiti quelli più belli Aspetta Ok, vai Facciamo un cambio Ok E poi piedini ho Unbreaking 3 Deathstrider 3 Protection 3 Federfall in 4 Molto meglio Ok, tieni questi Perfetto Non prendo più danni da caduta così Ok Anche io ho tutto Protection Io sono messa bene perché mi hai già dato tutto con protection 4 Perfetto, perfetto Ti manca dell'unbreaking da qualche parte? Allora, unbreaking ho il 3 nella chest E 3 nei gambali I piedini Ah no, anche nei piedini Non li avevo notati Sì ho tutto Ok Mi avevi già dato un'armatura super OP Ottimo, ottimo, ottimo Poi Ad armi come siete messi? Allora, la mia spada Sharpness 4 Knockback 2 E looting 3 Io ho una spada in diamante E basta Ok, perfetto E ovviamente quest'arco Che mi avevi sempre dato tu con power 1 Allora, in questa cassa Ci sono le armi per tutti Sia archi che spade Scegliete quelle Adatte per tutti Che almeno Ci vediamo Allora, sharpness 5 Con fire aspect Direi che è top, no? Allora Aspettate, mi sono mutato un secondo Scusami, Steffo, vai Ho preso quello con fire aspect E sharpness 5 Perfetto, perfetto, perfetto Vai Fere Prendi anche te la tua Quale mi prendo? Cosa mi consigli? Allora Sicuramente Sarebbe l'ideale Avere una Con sharpness Cioè quella con Steff Di sharpness 4 Che è tanta roba Però non ha un breaking Quindi a questo punto Io ti consiglio La seconda Perché ha sharpness 3 Fire aspect 2 Un breaking 3 Perfetto Ricordati anche un arco Fere L'ho già preso L'ho già preso Quello Aspetta Fere Mi ripeti gli incantesimi Di quella spada? Allora Sharpness 3 Fire aspect 3 Un breaking 3 Fire aspect 2 2, scusami Ok, no, ok Non so perché ho letto male Vabbè Mi casino a leggere ste robe Poi se volete Ci sono anche gli archi sopra Non so se le avete preso L'ho già preso L'ho già preso Perché era più forte del mio Quindi l'ho preso Allora Anche le mele d'oro Ok Prendete uno spyglass Le mele d'oro Ok, perfetto Allora Vi spiego un attimino Come siamo strutturati Ok Questa cassa qui Ha spade di riserva Non incantate Ok Lascio anche la mia Dovessimo prendere qualcosa Al volo Anche io Anche il mio vecchio arco Lascio tutto Così sono sicura di non perderlo Nel caso Steph morisse Perché Fere ovviamente Non è contemplato Le prime morti Steph Vieni a prendere le cose Nella cassa nascosta Qua dietro Perché sono solo Sette incantate di diamante Ok Ok Poi Nel caso proprio Vuoi trasformare Dalla roba in nederite Cioè questa cassa Ci sono i lingotti nederite Nell'angolo Ok Perfetto Quindi basta che prendi un lingotto Lo metti all'interno Della smiting table Qua E Si trasforma tutto qua Quanto per bene Tutto chiaro Poi Invece dal lato opposto Sono solo pozioni Quelle splash Sono quelle di weakness Di debolezza Quindi sono da usare Contro gli altri Perfetto Abbiamo anche invisibilità Direi di prendere anche Shield con Unbreaking 3 Sì Bravo Uno o due Secondo te Io prenderei Due da tre A testa Quindi due Shield con Unbreaking 3 Ok Dammi un secondo Mi devo mutare Vada vada Steph ti volevo dire Allora Ho aperto youtube Perché volevo vedere Se Kendall Fosse andato in live Perché sapevo Che sarebbe dovuto Andare in live Anche lui Apro la sua live E vedo il mio faccione Mi gira Ed era di fronte a me Che mi stava inquadrando Però io l'ho visto Dalla live Cioè proprio Apro la sua live C'era la mia faccia Inquadrata gigante Del mio personaggio Un po' inquietante Esatto Lo spawn point Lo spawn point qua sotto Così nel momento In cui morite Nel caso Esatto Fatto E bom Questo qua è tutto Tutto quello che ho preparato Negli ultimi cinque giorni È tantissimo Sì 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 Ma me l'hanno detto Ieri a me Me l'hanno fatto tutti Tranquilla Andrà bene Perché Mark Ha tryardato un botto Mamma quanto tryardato Quanto tryardato Allora io deposito Un pochino di cose Patrick Grazie del mese di Prime Benvenuto Un bacio enorme Aspetto Da questa parte Che poi io non ho cibo Normale e decente Cioè io mangio panini Che non è Io ne ho se vuoi Ne ho tanto Perché sono sempre stata Riempita di cibo Cioè sono piena di bistecche Se vuoi qualcosa Devo rimettere In stanza di TTS Perché non so Quando mi muto Mi smuto Adesso probabilmente Ho ringazzato la sub In live da voi Va bene Ok Deposito questo Ok Direi che io cibo Sto messo bene anche Perché Volete delle carote d'oro? Beh Ma io ho tante mele d'oro Comunque Cioè Ho tanto cibo Eh ma le mele d'oro Sono da usare Sì solo quando Esatto In momenti importanti Esatto Esatto Sì sì Non possiamo sicuro Prendete lo L'avete preso lo Skyglass vostro? Sì Ce l'ho Ok Perfetto Allora Ok Ok Direi che siamo belli carichi No? Un cibo di Franci Io Secondo me Un lavoro migliore di questo Non potevamo farlo Quindi Ma anche secondo me Siamo messi super bene Quindi Io direi che va benissimo Che io con me Oltre che quei set Ho altri due set Di nederite Quindi nel caso Comunque le prime persone Che muoiono Hanno almeno Un set di nederite Nuovo Ancora da utilizzare Che è ottimo quello Perché ovviamente Se non hai perso ancora Tutte le vite Almeno puoi Giocartela ancora Con una bella armatura Esatto Esatto Ci siamo io Che ho ancora tre vite Niko ne ha due Marcini ha tre E Kendall ne ha tre Quindi Quanto è che c'è anche Steph Che Steph è full Zero morti Esatto Quindi lui se la può giocare bene Ma anche gli altri Non sono messi così tanto male Cioè secondo me A livello di morti Siamo messi bene Quindi Esatto Esatto Abbiamo qualche strategia Per proteggere Steph Allora Ti dicono le frecce Mi sa che non hai preso le frecce Ho tre frecce Ho l'arco con infinity Ah ok Ok Io ti ho avvisato Perché hanno tutti Steph le frecce A proposito di strategie Gli altri Cioè in chat Mi stanno spoilerando Un po' di cose Dell'altro team E mi stanno dicendo Che loro volrebbero Prenderci da dietro Dagli alberi Però non capisco da dove Non Perché dietro di noi Non abbiamo alberi Allora A me ieri hanno spoilerato Una cosa Che vabbè Ormai ve la dico Non so se la sapete Mi hanno detto Che Loco Ha costruito dei cannoni Di TNC Sì Al lato del nostro regno Quindi Ci sarà anche quello A cui dover pensare Ah ho capito Da dove Allora L'idea Steph Sai qual è Ciao 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 ragazzi Fere puoi seguirmi Anzi seguitemi tutti Sì Ok Voglio fare vedere una cosa A Marco L'ho già fatto vedere Nella sua live in realtà Allora Se vi dovessero inseguire E ci troviamo qua All'interno del nostro bio Ok Ho fatto una cosa Un passaggio Che conosciamo solo noi Che ci può salvare la vita Quindi Entrando all'interno del castello È una cosa molto semplice Entrate all'interno del castello Se vi stanno inseguendo E volete scappare E dovete tenere Praticamente la sinistra Passate di qua State a sinistra E se loro non la sanno Questa cosa Finiscono incastrati qua È una free kill Praticamente Ok Se avete poca vita Poi salite qua sugli scalini E scendete qua Che c'è un pozzo d'acqua Bellissimo Mi dicono in chat Una strategia Sarebbe quella di puntare A chi da loro ha 4 morti Per farli diminuire Sì Perché Non è stupido Esatto Cioè se riusciamo Riusciamo Eh se riusciamo A beccarli Perché secondo me Saranno anche quelli Che se la giocano Più safe Anche loro Insista a poche vite No Ricordatevi anche Che dobbiamo cercare Di uccidere Quelli con armature migliori Secondo voi chi sono Impossibile Allora di sicuro Daranno delle belle armature A Loco Esatto Loco Ok Perché Loco è forte Se riusciamo a uccidere Loco subito Ragazzi È fantastico Togliamo quell'armatura È un bel vantaggio Loco ha costruito Un cannone enorme Esatto Mi dico Eh ma io so Dov'è il cannone Più o meno Punta verso la torre Io ieri avevo Tutta la mia live Loco ha costruito Un cannone gigante Ragazzi Abbiamo pensato Una strategia Nel caso in cui Stiamo messi male Per difendere E fare più tempo possibile Io ho una mezza idea Che belli questi Ma cos'è sta roba Creiamo È bellissima Una sorta di Stanza di Ossidiana La regina No boys Cos'è Cos'è questa Non abbiamo Ossidiana Sì ne abbiamo Dove Minimo Allora venite Com'è Qualcosa Se buttano Una tenente Lì dentro È finita Per fare No basta Che mette l'acqua Sotto Lei si tiene Un secchio d'acqua La mette sotto Perché Allora L'idea è questa Se noi creiamo Una stanza Dove lei è circondata Da Ossidiana Loro per forza Bucano l'Ossidiana Ogni volta Lei li colpisce E si richiude dentro Perdono un sacco di tempo La facciamo qua Tipo un bunker Qui nascosto Secondo me potrebbe essere Un buon'idea Che dite Ma ne abbiamo Quanto ne abbiamo Quindi Io ne ho nove Ditemi un po' Che vorrei sapere Anch'io raga L'idea sarebbe Di chiudere Fere In un bunker Di Ossidiana Nel caso La stazione Diventi hot Ok E in questo tempo Ci danno anche il tempo Però Fere Deve tenere C'è Loco Che ci sta spiando Dicono Dove Dove D'acqua Ve lo dico Tanto ormai Guardate un po' Dove siete Siamo al castello Dove è signor Steph Signor Steph Anzi no Via Tu signor Steph Via Lei deve parlare Guardi che cosa ho No Bellissimo Quindi ne abbiamo due Ragazzi Io ne ho già una Guarda Vedi Buono 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 Una deve averne Ragazzi Ce l'ho La conservo Da tantissimo tempo Ovviamente Ragazzi scusate Mi serve del cibo Dove lo trovo Io ho fatto 62 Carote d'oro Ve ne do un pochino Se volete 62 carote d'oro Sì 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 Ha fatto la coltivazione La ragazzi C'è Loco Dicono raga In chat mi dicono Che c'è Loco Viene per noi A me non lo stanno dicendo Lo sai Marco Stavo guardando Anche la mia chat Però È impossibile Essere invisibile Perché abbiamo tolto i comandi A tutti Questa guerra Non si ci può andare Allora Beh però può usare Pozioni di invisibilità Ah certo Guardate perciò a caso Lo cecchiniamo Potrebbe essere invisibile Attorno a noi Ci dicono anche Che ce lo stanno spavando Di tenerci del latte Nell'inventario Sì Io ne ho fatto un botto Raga pure Io non ne ho Quindi Quanto ne avete Raga io purtroppo Ne ho È nel chest giù ragazzi Allora andiamo tutti quanti Andiamo tutti quanti Un attimo nel bunker sotto Perché almeno Settiamo lo spawn point Sì Rispiego per una volta Per tutta ancora La questione armi Tutto quanto Almeno siamo sicuri Io ho bisogno di una domanda Signor DeMarc Io mi sono rubato La sua accetta Che mi ha andato Di prendere Però Io vorrei anche Una spada Non posso Tutto quanto qua dentro Però mi prendo una spada Un diamante normale Forse Le lascio Quelle in card Tanto ce l'accetta Mi serve solo Per andare Il secondo Marci Qua c'è Questa cassa qua Dove sei Vieni Questa cassa qua Ha solo set Diamante Fu l'incerti post morte Ma non l'avevo visto Ma Bro Secondo te Ti lascio così Ma anche le pozioni Dobbiamo prendere Tutto 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 Ah allora Mi devo equipaggiare Ragazzi Considerate che ho anche Mi prendo anche lo scudo P La balestra ho anche Con multishock Marci Domanda da ignorante Le pozioni di forza Hanno effetto sull'arco? Non lo so Su tutto credo Su tutto hanno effetto Ragazzi Perché Su attimi Se no non avrebbe effetto Tipo solo Su una spada O su un'ascia Credo che sia proprio Sul danno stesso Ok Allora Fate una cosa importante Settate lo spawn Ragazzi sul letto Dovete essere sicuri Di aver settato lo spawn Quante pozioni state prendendo A testa? Io ne ho tantissime Io ne penso Ragazzi Non prendere troppo Eh esatto Quello E quello Paura Io ne sono tante Comunque Due da strength Di 8 E una da strength Due da 1 e 30 Ho preso E tre Tre Di strength Due di fire Resistance Io ho una strength Due E tutte String da 8 Allora Ragazzi Abbiamo Da 8 Ehm No Tiene più 0 Secondo me In battaglia inutile Perché rischiamo di prendere Danno anche noi Eh no Non è inutile Però non posso dire Il mio piano Anche se poi Ragazzi Io effettivamente Ho già forza Forza 2 Quindi E si combina Forza 2 Non so se si combina Oppure no No non si combina Allora le lascio qui Le pozioni No no Le lascio qui Ragazzi Anche le frecce Sembra che ne abbiamo tantissime Ma se ne prendete 8 stack No no Infatti io ne ho preso È solo una stack Io un po' di strength La sto lasciando Ne porto Spammano roba strana Ragazzi Ti stanno dicendo Che ci stanno già Per attaccare Ma non è possibile Ma non è possibile Come ti stanno trollando Raga chi ha l'arco Con infinity Prenda veramente Poche frecce Io non ho Io purtroppo Steph Devo prendere Perché ho il crossbow Con multishot pure Ok Guarda che figa Prendere tipo Della corona So fregata Oh cavolo C'è la ragione No no L'ho pensato io Perché tutti mi dicono Prendi il latte Prendi il latte Però ho pensato Cavolo No no Non rischio Non rischio Né con le pozioni Né con il latte Perché se poi magari Mi annullo i miei poteri So fregata E muoio subito Perre ricordati Se scendi sotto i dieci cuori Me la oppi subito Sì 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 Ce l'ho già pronta Nell'inventario subito Vicino alle armi E soprattutto Cerca subito aiuto Cioè non restare sola Sì 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 Cerco di starvi Sì il più vicino possibile Perché poi voi Sarete super impegnati E soprattutto ragazzi Ricordatevi La prima morte È la più importante Sì Cercate di giocare difensivi Appena vi tolgono L'armatura più forte Siamo fregati Assolutamente Ma le chatte degli otti Le nascondiamo con P? Eh potrebbe aver senso Se lo fanno tutti Non è a fondo dai Io ho detto così Per le live Perché sicuramente Tutti i live Sicuramente qualcuno Farà un po' di spoilerini Ehm Sicuri che non abbiamo Antinti di nessun tipo? No Non ce n'abbiamo Mannaggio Eh ma non le ha fatte Kender con le ha difese Scusa con i cannoni Non lo so Perché Non lo dico a faccia alta Perché altrimenti Stanno in automatico il piano Ma Ho in mente una cosa Per vincere la guerra Oh Speriamo che non sia come la tua volta Perché ti avrei fatto il piano E poi c'hanno No 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 S'hanno massacrato Ehm Cosa vi dovevo dire? Accidenti Ma sono dimenticato Ma sono dimenticato Rip Vabbè Pazienza Ragazzi Oh Tra 13 minuti si inizia Raga io c'ho le mani fredde 12 minuti Sì sì Sono già fredde le mani 12 ok Io caldissimo Mi sono allenato 20 minuti fa Quindi Bravo Io ho finito di fare Io 20 minuti fa Stavo mangiando la macedonia Ma la sto prendendo Proprio con calma Io No Marci Non si può dire Perché stavi facendo le texture No no Ho fatto solo texture Non si può dire Vabbè c'è poca gente Ad ascoltare Sto facendo semplicemente Il nuovo video di 22 da Kendall 22 da noi E sono solo 44 mila E infatti Cosa vuoi che sia Non sento nessuno Poche persone Allora Dicevate raga Siamo in pochi Siamo in pochi Siamo in pochi Arichi Chiediamola Anico Dove è Dicola Diamine Nico Credo sia mutato Però Portate Pochiate tutti Nico Sono Spocchiate 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 Spocchiando La regia Ci dicono Che tu E tnt Se potresti Darcele E dove c'è Tnt Ok Molto bene Pensavo che quando Andassi in bagno Facessi Tnt Allora Ragazzi Tutto chiaro Comunque Dove Stavo Gli oggetti Tutto quanto Sì 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 Dove sei Giù 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 Ti riempio Tutti Stiamo carichissimi Campioni C'è tutta la Bastano 20 Nico Hai sentato Lo spawn Grandi ragazzi Abbiamo una sharpness 5 per lascia Perfetto Sharpness 5 per lascia Vedi 3 Nico io ti voglio bene Un polmone Cavolo C'è un 3 qua Va bene Va bene L'ho trovato Nel mercato Nero Se vuole Troviamo Vediamo cosa scrivo Nel chat Dovete vincere Vabbè Chiaro Come non si vede il gioco Cosa combinato Un casino fatto Un casino fatto È mezz'ora che guardate la mia faccia grande No dai È un professionista Ragazzi Dato che ho saputo che Nell'altra chat Fanno un po' Gli snitch Da noi ci stanno dicendo Che nelle case altrui Hanno messo all'ingresso Delle tenetti come trappole E quindi non entrare mai All'interno delle case degli altri Che anzi aiuta Allora Se volete un consiglio Io il fight Lo farei piuttosto Nella nostra zona Rispetto che a loro Sempre se fattiamo Poi non veniamo attipati Da un'altra parte Perché conosco i miei polli E loro hanno la fortuna Che Hanno la snow Che può essere snow powder È vero E la snow powder ragazzi Può essere utilizzata Come sabbia mobile Con Una trappola sotto E noi non ce ne rendiamo conto Quindi mi raccomando State attenti Io il fight lo farei da noi Anche perché Abbiamo delle pozze di lava In giro per tutta quanta La nostra mappa Che sono strautilizzabili Quindi Ok Eh ma anche loro Vorranno fare il fight Da loro Possiamo All'inizio può essere Io non ci andrei mai Piuttosto fare solo fight A distanza Abbiamo fatto una cavolata L'ultima volta Vi dico solo questo Perché se voi ci pensate L'altra volta Noi abbiamo fightato loro Nella loro zona Perché hanno tutti Quei punti alti Ci attaccano con le frecce È vero È vero Quello sì Perché hanno tanti alberi Poi è fatta tutta Sulla montagna Quindi è facile raggiungere Da loro i punti alti O facciamo metà in metà Quindi vicino il fiume O vengono qua da noi No 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 Aspettiamo Eh vediamo Perché anche Secondo me loro all'inizio Temporeggeranno Perché giustamente Vorranno combattere Nella loro zona E poi è l'ultima Allora Secondo me Poi la loro idea Sarà sicuro Di si dividono Secondo me loro sicuro Si dividono E qualcuno fa un assalto Da qualche lato Ha ragione Marco Secondo me non dobbiamo fare Come abbiamo fatto L'ultima volta Che uno era sin L'altro era a destra L'altro era dietro Esatto Ma vogliamo restare tutti uniti Sì tutti uniti restiamo Avete presente la testugine Che ci mettiamo tutti così Come gli spartani ragazzi E camminiamo Io ho bisogno di blocchi ragazzi Non avete blocchi voi Io ho bisogno di una crafting Porca mi sono No effettivamente Non ho blocchi Eccoli qua Mi stanno consigliando Anche di avere tanto latte Perché loro hanno Tante pozioni di veleno Ok Io mi scoccio A tenere così di latte Anche io No io ripeto Non L'ho spiegato poco fa Non lo posso prendere il latte Perché rischio di annullarmi Gli effetti della corona Sì sì Infatti tu no Raga sto facendo carote È arrivato Pingu Vai Carote d'oro per tutti Ne volete Allora io al momento Ne ho quindici Quindi penso Oh sì 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 Se ne fate in avanzo Certo Fa solo che è comodo Ragazzi ho bloccato Veramente Franci Franci scusami Cioè Franci È bloccato Franci In che senso Facciamo che le metto Le metto nella cesta Così perché nella cesta Non c'è molto cibo Nella cesta delle armature Ok Totem Qualcuno di voi è totem No Il totem dove lo trovo No Speriamo di no Perché se ne hanno l'oro Sono guai Anzi Dai per ora mi tengo il cibo Che ho Non voglio sprecarlo Non voglio trovare la maggiore No Il totem è infattibile Non si può Non è possibile Vabbè però non ce l'avranno Neanche loro a sto punto Quindi Comunque anche se dovessero avercelo Dopo Gli dai due spadate Dopo l'utilizzo del totem E muoiono comunque Sì 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 Perché non Non fanno in tempo Esatto A riequipaggiarsi Ma abbiamo un piano Una strategia No Sì Stare tutti quanti vicini Sì Abbiamo le idee chiare Quello sì Facciamo una bella pratica Venite tutti al centro E iniziamo a metterci a testugine E camminiamo tutti dritti Ok Io ho poche vite Tipo io al centro Sì sì Fere al centro Tutti noi di lato Pronti Ma noi siamo quelli con meno vite Ragazzi Ragazzi ma però ci sparlano due frecce Ci spostiamo tutti Quelli sono Con l'arco siamo tranquilli Mettiamo così e facciamo Avanti di due passi Non funzionerà mai Ma te lo dico Oh io lo sto seguendo invece Io faccio i tamburi Vicino al muro Perché ho visto che il muro nostro È più di ragnatele L'ho messo io Ok L'ho messo io per bloccarlo Ma il signor Comunque ci dicono Che non hanno totem Bro se ci salta la linea Durante l'evento È impazzito Poi non so se è vero ragazzi Però Golem di ferro Ma hanno detto Che andate le ragnatele avanzate? No Golem di ferro ragazzi A me fa un po' Pavorare il verino ragazzi Facciamo i golem Ma i golem Non attaccano I iron golem Come non attaccano? Se li spawni tu Certo che attaccano No Quelle le bedwars Esatto Ragazzi Dicono che loco Ci spia dal castello L'hanno detto anche prima Stef Ma io sono andato al castello Non c'è nessuno Comunque Franci ragazzi È totalmente crashato Sappiate No Franci Io nel caso fosse Fosse qua loco Io lo uccido Ve lo dico Ragazzi Esplosione Cos'è esploso? Hanno sparato con la TNT Non lo so Ma vi vogliono dire che non è Qua Che mancano 5 minuti E che Franci È un attimino Qui dove sono io Ci sono tutti i blocchi distrutti Oh ma il cannone di loco Il cannone di loco però ragazzi Può sparare solo qui Il che significa che se noi evitiamo questa zona Non ci fa nulla Ha sprecato solo tanto tempo E TNT Io non ho fatto i cannoni Perché sono troppo statici Basta semplicemente fare così E non ti tocca più Vero Quindi c'è Niente lo può spostare Però Franci mi preoccupa Perché siamo uno in meno Eh sì Sì potrebbe essere un problema Dai Franci Ti prego riprenditi Forza forza Eccolo Eccolo Abbiamo chiamato Meno male Dai Perché anche lui comunque è forte Qualche kiss Gli si è rotto il cannone Il cannone ragazzi Si è rotto Si me lo stanno spammando in chat Davvero No fermi Il mio cannone è rotto Gli ha sposo il cannone È loco invisibile Gli tegrisca così tanto Io ho sbloccato la chat di loco Per prenderla in giro Fatto bene Oh non faceva altro che dire Ho creato il cannone furtissimo Kendall ti distruggo Pronto Rip Prima della Hanno rotto il cannone Oppure raga D'ignoranza puntiamo tutti Buddy E insomma spadarlo Ce ne freghiamo degli altri Andiamo lì Alla spada potente Alla spada Alla spada data del big ladro Ma perché la spada ci distrugge Esatto Nello scorso combattimento Buddy era nascosto dietro l'albero Che si faceva proteggere da bella faccia Ma secondo me Secondo me ragazzi Dobbiamo distruggerli tutti Sì Cioè e poi andiamo a 7 contro 1 Esatto Di cui cosa dobbiamo fare Anche secondo me bisogna puntare prima a quelli più deboli Tra virgolette Perché Buddy con quella spada è troppo forte Assolutamente fortissimo Sì sì La spada di Buddy è incredibile Ragazzi Ragazzi Semplicissimo Loro si vogliono camperare sugli alberi e sulle case Accendini Gli diamo fuoco e devono scendere Bravo Sì 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 Io me ne prendo subito uno Perché lo faranno Tanto lo sappiamo che tutti e due i territori verranno distrutti ormai È l'ultimo giorno Sì è l'ultimo giorno Quindi tutto verrà distrutto sicuro Speriamo non la piscinetta di Cacao Pagano Cacao Dobbiamo assolutamente far sì che il fight si faccia da noi Sì sì Lui dobbiamo spingere proprio qua Allora ricordatevi che i bersagli più importanti sono Lorenz e Stexiao Quattro vite perse per entrambi Perché sono quelli esatto che hanno Perché hanno solo due vite giusto Ragazzi Allora vi dico Anche io quattro vite Ragazzi seguitemi un attimo per favore Ho dimenticato di dirvi una cosa Venite Seguitemi Io ho dimenticato di dirvi che Ho otto cani Buongiorno Buongiorno Franci Buongiorno Ciao Franci Questi qua sono pesantissimi Ciao Allora Bellissimi L'ansia prima della battaglia Ragazzi 27.000 Mancano due minuti eh Oddio Abbiamo quasi 100.000 persone Che guardano tutte le live di tutti Pazzesco Uh Ah sì vi stavo dicendo L'altra volta Quando ho fatto fuori Lorenz Vi dico solo che io ero Full diamante No enchant E lui era Full diamante Chestplate Di nederite Enchantato Spade enchant Tutto quanto enchantato Con scudo E io ero solo Roba in diamante Zero enchant Spade in diamante Zero enchant Quindi Lorenz Non sa combattere molto bene Appunto Per dirvi Dicilo Focusiamo tutti No Non focussarlo Però se te lo trovi davanti Certo Punti a lui Ok No C'è Easy Beh è normale Guarda gli scudi Secondo voi conviene Tenere quindi un'ascia E una spada Assolutamente Sì 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 Rompi lo scudo con l'ascia E poi usi la spada Esatto No io non ho l'ascia però Mannaggia Non sapevo di questa tecnica Vabbè La chat è stata già Colpisco la spada Colpisco la spada E basta Ragazzi Mi scappa la cacca Ve lo giuro Scusatemi Marci Eh raga Devo dirvelo C'è un po' di ansia Scusate Infatti Lorenz Mi dicono dalla chat Che Fere Potrebbe attaccare gli altri Togliendosi la corona E rimettendosela Con i fulmini No 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 È troppo rischio No ma sei fatto Mi sciottano Se poi levo la corona No no L'idea è Certo sì L'idea Allora potrebbe funzionare Ma se ti va male È finita Capito Secondo me è un rischio inutile Ricordiamoci che Buddy può volare Con la corona Ah beh ma neanche trovo Per lui Prende danno da caduta Infatti Basta che mentre sta cadendo Premi shift E non perde più danno da caduta No no raga Guardate che però Si può attaccare dall'alto Ok ma ha un volo Signori 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 Non è il momento di parlare Di fisica quantistica Mancano tipo 10 secondi Esatto Mamma mia Raga Eccoci via Raga 18 Ragazzi mi raccomando Ci siamo ci siamo Ci siamo Vai Siete pronti Ma che ansia Aiuto ragazzi E se sono tutti invisibili Attorno a noi È quello che ho paura Eccolo Bigladro ho scritto Bigladro ho scritto in chat Siete pronti Sì Ma che vuole Non è vero Non è vero Non sono pronto Non è anch'io Non so per niente Ci porta via Non è niente Un attimo È iniziata È partita Ok calma ragazzi Stiamo calci Ragazzi dove stiamo andando Vicino a Fere Allora andiamo a Fere Io sto qua Che da fare L'equipaggiare Che ero crashato La trogliamo D'ignoranza Riusciamo tutti A servire Rientriamo No Ragazzi Una cosa Cercate soltanto Di dire cose importanti Cioè non parliamo Di più Del meno Sì Hai ragione Andiamo nella torre Ad avvistamento di Kendra In alto Allora ragazzi Occhio a questo punto Perché colpisce il cannone Se rifunziona Quindi Quello è l'unico punto Da evitare I cani li lascio per adesso Ragazzi Li lascio per dopo Meglio che non li prendo Lascia lì Vediamo tutto Mettili qua sulle scale Marci Sono nell'altra torre Lascia stare per adesso Mi raccomando ragazzi Voi in chat Non spoilerate Non dite nulla agli altri E non dite nulla Di quello che fanno Gli altri a noi Esatto Perché se no L'occhio cade Di giocare pulito Dai No io non la guardo La chatta d'ora in poi Io non ho il cannone Quindi tutta quella fascia Io ce l'ho a Marci Se voi te lo do No no tranquilla Tranquilla Che c'è laggiù Con lo stef Non ti devi preoccupare Ragazzi io non vedo niente Raga raga Come dei ragni Vi giuro Dei ragni Dei ragni Sto attacca nei ragni adesso Stef Dimmi Ma perché E di qualcosa Niente Le mie frecce stanno arrivando La cosa difficile ragazzi È fare delle strategie Perché non puoi parlare Cioè in questo momento Abbiamo tipo Centinaia di migliaia di spie Che ascoltano Certo Quindi non puoi Non puoi sbilanciarti più di tanto Devo farmi power 5 Però è troppo Ragazzi fate attenzione Che ci sono anche dei passaggi segreti Che loro conoscono Se escono fuori da questa botola Siamo fregati Infatti secondo me è meglio stare in alto Te l'ho detto Sì ragazzi Il cannone è palesemente esploso Ok Ok Cioè guardatelo Guardatelo Ti ho messo tantissimo a farlo Poverino No non mi dispiace Anch'io lo vedo Non so dove sia Io lo vedo raga È palesemente disintegrato Io vado vicino a Steph raga Oh oh Ah eccolo Sì 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 Se è quello Allora lo visto anch'io È arrivata una freccia Mi sa ho sentito Davvero? Ho sentito una freccia Io non l'ho sentita Fino e sparo un po' Verso di loro Vi avviso Muoio Raga Un po' d'ansia A me non piace Un po' tanto in realtà Perché ho paura che vengano veramente con funzioni di invisibilità Eh ma sarebbero vulnerabili Sarebbero iper vulnerabili Attivate le particelle ragazzi Perché vedete se la gente cammina a terra Io ho visto un nome Sono molto spaventato Io ce li ho Vedo a marci di camminare Aspetta vediamo C'è un particle sonno Hai attivato tutto Vediamo a camminare Steph Partico sonno Guardati però ragazzi Sì sì vedo Dove state andando ragazzi? Siamo molto divisi Infatti Ragazzi ma che facciamo? Vogliamo andare nella montagna No 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 Stiamo vicini anche al nostro magazzino Perché se vanno lì È un problema Dite che sa Andiamo là Fidati Mark gli ha appena dato un'idea assurda Vabbè ragazzi Hanno lo stesso identico problema loro eh Dici che possiamo Eh beh Avranno anche loro un magazzino Per forza Molto Raga Restate sempre con Fer Troppo sola Io so Sì mi hanno tutti abbandonato Se le fanno un attacco da dietro è la fine Vabbè qui io stanno shiftando Comunque non c'è nessuno Questa è una partita di scacchi Proteggiamo la regina Secondo me Ragazzi sapete che secondo me Ci stiamo aspettando a vicenda Sì 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 Ho questo fantastico presentimento Io l'avevo detto Io l'ho detto fin da subito Marci Che anche loro avrebbero aspettato Io non voglio andare nel loro regno Esatto Ma anche loro non vorranno venire nel nostro Ragazzi io ho una mezza idea Però non Cioè non possiamo dirlo in live Cavolo Scrivilo su TS Scrivilo su TS Bravi Bello 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 Ok ok sì Comunichiamo in modo privato Io tengo a TS sotto Ok Guardate che ve lo metto alla sinistra Ragazzi 31 mila spettatori Eh ci potrebbe stare campione Vi piace? Vediamo C'è qualcuno qua sotto Chi che è? Ok Franci Mannaggia a te Io non lo faccio Marco Ho troppo paura No Deve farlo qualcuno con zero morti Stef Sì ma se perdo tutto io Siamo messi male Sapete chi è l'unico che può farlo? Franci È vero È vero Franci Franci mi faci sognare Che c'entro io? Ragazzi ma anche però questa cosa scusatemi Lo sono fatto Cosa? Cioè se la fa solo uno Cosa ci guadagniamo? Sappiamo Oh Che è successo? È esploso qualcosa qua ragazzi Qui di fronte Hanno sistemato il cannone Hanno sistemato il cannone Che v'ha colpito? L'albero L'albero Esatto Zona dell'albero A fianco all'albero proprio Ho visto le esplosioni Come mi sono girata Io non ho capito Perché hanno fatto sti cannone I TNT Che vanno sempre in un posto Sì sì Io non li ho più fatti per quello Vabbè per far scena e far paura Secondo me Sì sì Uuuuh Che paura Ci vogliono far anche arrabiare Ma se Andiamo verso la mesa In quella zona là Dove c'è la farm di scheletri E se facessimo il megagiro infatti? Sì 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 Restiamo sulla montagna Quella lassù Venite venite Se abbiamo la igra È molto meglio Se restiamo in alto è molto meglio Marci i cani li hai presi? No li lascio lì Per nel caso Morissi Preferisco lasciarli lì Come seconda roba Hai ragione Fai bene Ok Mi raccomando Tutti uniti ragazzi Guardatevi sempre le spalle Se c'è qualche talpa Tra di noi No speriamo di no Non vi parlo più Ve lo giuro ragazzi Ci manca solo quello Vi banno per sempre Della Big Vanilla Ve lo giuro Marci che fai? Eh bisogna salire In qualche modo Mi è arrivata la freccia Da dove? Da dietro? Ragazzi Si sta infugando Tutto il loro albero Là in fondo Wow Come cavolo fate a salire Sta roba È scomodissima Eh Steph Un po' avanti in dietro È veramente arrivata da dietro Sì guarda qui la freccia È qui arriva da dietro Ragazzi Lo spatta io Vi stavo trollando Dai andiamo Dai Steph Ma smettiamo Scusate Dobbiamo far qualcosa Per gli spect Qui si annoiano Io mi sono perso No Franci Dove è Franci? Non so dove siete Dove c'è la farm di scheletri? Siamo andati alla farm Ah ok Ok arrivo Veloce Non possiamo stare separati No infatti Ragazzi Se ci beccano separati Siamo morti Se spariamo le loro TNT E il loro candone Con l'arco flame Lo distruggiamo Eh sì ma dov'è le TNT? Eh la lontano Ah ecco perché Sto prendo fuoco tutto là Spito Eh che si fa Ma dove sono? Non lo so Ragazzi scusate Riusciamo a colpire Quella casa di legno Lì in fondo? Eh ma non c'è Non la puoi distruggere Eh no infatti Deve se c'è una TNT Non ci arriva neanche Qualcuno piace le TNT ragazzi Vado? Eh come fai? No no ragazzi No perché è pieno di Neve fake Allora Alcune di quelle case Che vedete lì Sono state manomesse da me Ho messo TNT e pressure plate Quindi non c'entrate mai Ok Scappare Che franci sta arrivando Ragazzi ho le mani ghiacciate Anche Vedo loco È verso Verso est Dove ci sono gli alberi A destra A destra ragazzi Ok Bravi Adesso questo lato C'è loco da solo Però secondo me È un diversivo occhio Ok Ragazzi Moviamoci compatti No no Moviamoci tutti insieme Però ragazzi Andiamo tutti Lasciamo il magazzino Dobbiamo stare in questa zona Secondo me Eh ma qui siamo già lontani Steffo Steffo wait Steffo wait Steffo wait Controlla Controlla Dite che vogliono rubarci il magazzino Secondo me sì Secondo me sì Conviene che indetreggiamo raga Perché qualcuno di noi Prova a rubare il loro di magazzino Ma non penso abbiano molto l'oro Ma eh sì Questo è quel che dici ora Poi Non so Non so Questo presentimento Che gli abbiano detto Del magazzino Eh speriamo di no O chiescono loro Da quella zona lì Che dicevano prima Eh può essere raga Mamma mia ragazzi Ci stanno intrappolando Come dei criceti No raga Anche l'altra volta Abbiamo provato a intrappolarli L'abbiamo Abbiamo sbagliato noi Quindi Siamo tra i fili Infatti Infatti E usare tanto l'arco Raga l'arco fa più male Della spada Fidatevi Magari non dell'accetta Con tredici Se sei Se sei mirato però Ragazzi Poco fa Ho testato la mia spada Sharpness 5 su Mark Gli toglievo mezzo cuore L'arco te ne toglie almeno tre Siete tornati al regno ragazzi? Sì sì Siamo tornando Ok Se focchio a indietreggiare Perché dai le spalle al loco sicuro Sì ma tanto Ah vero Qualcuno è andato dietro Poi alla fine Quando sono andato a vedere Comunque lui non c'era Quindi si sarà nascosto Shiftando Che ne è molto indietro Sì 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 Ho lanciato io l'arco Qualcuno ha preso danno? Io ho lanciato solo l'arco Io sto controllando dietro Raga pure Controllate il magazzino sotto Sono sotto Sto spadando a caso Per vedere se qualcuno è invisibile Ragazzi Io ho voglia di uccidere qualcuno Eh Eh stare così È molto più ansiogeno Che fare la battaglia in sé Guarda Mi ricordo che dovete combattere Ha ragione il big round Anche lui ha un po' ragione Ti incontriamo al centro Ragazzi io No non ci impediamo Io ho questo presentimento Come avevo detto tipo Cinque secondi fa Che qualcuno stia passando da Quella zona lì Sì 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 Ma scusa non c'è anche Però Sai qual è il Marci? Lo scriverò nella cazzo di me No abbiamo capito tutti Marci Penso anche chi ha sconto Tutti Marci Tranquillo Continua a dirlo Mi raccomando Tutti quanti Come parlare in codice Esatto De Marche Esatto È proprio quello L'inghippo Sì Credo sia lì Vogliamo provare Ragazzi è un rischio enorme È un rischio enorme È un rischio enorme È per quello che L'ho detto Che deve farlo Franci È l'unico Se vuoi uccidere Grazie Cioè perdiamo Una vita di Franci e basta Ma non è detto Che ci trova qualcuno là Eh E se lo trovano però È la fine Appunto È un bel rischio Te la senti Franci È un rischio troppo grande Per niente O vado senza O vado proprio senza armatura Senza niente Rubo solo No Piuttosto cambia armatura Prendi una debole Ma scusa non puoi andare Scendendo e poi Penso che non torni vivo Marci proprio Antisgamolo Ragazzi Io mi avvicino Ragazzi Voglio un po' Facciamo una cosa Vado a controllare io Quella zona Scusate Ah sì tu Allora 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 Venite un attimo tutti assieme Ragioniamo un attimo Io sto finendo il cibo qua Viene un sacco se vuoi Allora Dammelo un po' dai Allora dove sei? Ho una domanda Ma se ci dividessimo In due macro gruppi Tre quattro No Perché loro sono uniti Fidati Eh ma invece no Se avete visto l'opo Che era dall'altra parte Io questo presentimento Che Loco Voglia fare le cose da solo Come al solito È proprio da lui Eh voi li conoscete bene Infatti Loco vuole far sempre Le cose da solo Quindi è da lui Fare una roba del genere Infatti era solo Poco fa Ma era invisibile No Non so io il presentimento Raga uno deve stare al magazzino Vi fidate che uno deve stare Dentro al magazzino Vedo un nome Dove? Dove? Ti sei shiftato dietro di me Ah no chi è quello lì? Ah siete voi due Mannaggia Io non ho shiftato però Allora ve lo dico io Verranno dalla foresta Dalla foresta nera Sicuro Raga vi è scritto su TS Vediamo anche scritto Steph Secondo me conviene far così In questo modo Proteggiamo entrambe le cose Ok ma qualcuno deve stare In magazzino No Perché fai in quel modo lì Ok Capito? Ok Tanto se vanno tutti assieme Comunque una persona Non può farci nulla Però almeno ci può avvisare Molto prima che succeda Nico si prende Questo È per quello Nico Che ho scelto te Oh mamma Mi sa che ci dobbiamo combattere Mi sa che il lato si sta arrabbiando Ragazzi Ragazzi mi sa che si è visto Un nome sotto di qua Venite qua al magazzino Arrivo Ho guardato sotto Ho visto un rettangolino nero Mi sa che stavolta Non ho sbaglio Ragazzi Ci intrappolano Se piacciono Teniti uno soltanto Io l'ho visto qua dietro Raga ho visto un nome qua dietro Mi sa Dove? Eh ragazzi sono qua allora Non possiamo avere le visioni Ci stanno aggirando Rimango io Stiamo qua al magazzino un attimo Non vorrei dire cavolate Marky io ho paura Però vorrei stare con te Raga però non tutti Uno stia là Eh c'è Mark Giusto? Sì Se volete vado a dare un occhio io A me non sembra Eh ma il nome l'ho visto stavolta I fulmini erano del ladro Per dirci datevi una mossa Esatto Posso fare una cosa raga Cambiamo zona del magazzino No facciamo così Così possiamo vedere Sì secondo me devi prendere le cose Perché se scendi da giù È la fine Ehm Ho il presentimento che qualcuno Entri nel magazzino da Da sotto Sì Eh anche Ho fatto Guardate che ci sono tanti Tunnel sotterranei Anche sotto la torre Ah Che ansia Che ansia Vi rendete conto che stiamo tenendo Centomila persone in ansia Eh beh Noi cosa stiamo tranquilli Bravo Sì sì Marco Fai così te lo so Allora Adesso lo dico in live Ragazzi qua c'è un buco Venite qua sotto Lo ho fatto io il buco No qua non No questo non l'hai fatto tu Secondo me Toglio la visuale di minecraft Un attimo Ok Lì nell'angolo Ok Marco Me ne vado Qualcuno ha preso danno? Io 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 Ho paura che metto Mi serve che qualcuno Faccia questo lavoro con me Che non abbia la visuale Eh non lo so Togliete la visuale di minecraft ragazzi Perché? Chi fa la quale? Chi è che l'ha fatto? Eh non lo fa Quello dietro nell'angolo L'ho fatto io adesso Sappiamo Sappiamo da dove ci vogliono attaccare Da dietro ragazzi Dietro al nether? No da dietro qua Dalla foresta Secondo me Dalla foresta nera Foresta nera e nether Vuoi vedere? Sì 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 Arriva andrà dietro Possiamo andare tipo A fare una trappola Oh c'è una C'è del fuoco lì Ma? Ragazzi che ha Oh ti ho sentito Ho sentito Questa la troll No 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 Ragazzi mi sta venendo La troll La troll L'ha fatto un ladro Ragazzi mi serve Un'altra volta Mi serve una persona Che faccia la spola con me Per portare le robe Eh Franci O nico Franci unico Sceglietevi Franci riesci tu? Eh non lo so Cosa devo fare? Voi in chat vedete Dovete nascondere Lo schermo di minecraft E far quello che hanno scritto su TS Ok ok Dai faccio io Raga A me sembra di aver visto di nuovo un nome Dove? Eh ragazzi Io non vi posso troppo aiutare Perché se a me beccano da sola È la fine Cioè io devo stare con gli altri Perché da me non si vede la visuale Però il problema è che ho una posizione delicata Esatto Allora Ferre Vieni con me Vieni con me Guardiamo un attimo Dietro il nether Se vive qualcuno Perché No 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 Ferre tu resta qua No Mi posso muovere da sola E devi portare del legno Per forza Marci Veloce Sono dietro Sono dietro Sono dietro Arrivo Ragazzi dovevamo usare comunque le ender chest Porca miseria Sì Ah avvio Ragione Era questa la strategia Però ce l'abbiamo dell'ossidiana Non abbiamo fatto ancora il bunker usola Però non abbiamo Come si fa Con il nether Sì ragazzi Perché così avremo sempre l'ansia del magazzino Franci quanto ti manca? Tu hai una lava? Io sono qui Eh no Cavolo sono loro Però posso andarla a prendere Non so Questo presentimento che arriva dal nether Cosa c'è? Franci tu sei tutto matto Eh Mi stato scusa Ma tu sei tutto passo Cosa ho fatto? Se hai lanciato Non posso dirlo Dopo ve lo rispiegherò Mettiamo la lava sul portale Così se escono Esatto Ragazzi ci stanno spoilerando Cosa stanno facendo Ragazzi cos'è? Ho visto una luce Ho visto una luce Esatto Ho visto una luce Anch'io Io sto cercando a leggere la chat Ragazzi No ragazzi Io ve lo dico Non sto leggendo la chat Non sto leggendo la chat Il problema è Ragazzi Vedo dei lampi Anch'io vedo dei lampi Nico dove sei? Sono sotto Dai vieni E Marci non trovo Non trovo Poi non so se gli altri Stanno leggendo la chat Per avvantaggiarsi Però io almeno Per cercare di essere onesta Non la leggo No io non la leggo Perché mi voglio divertire Eh infatti anch'io Però di l'anno Non sai se non la leggono Vai Marci E' questo il problema Ragazzi Vengo dietro con te Non va bene qua Franci non va bene Ragazzi Mi fanno una paura Sti lampi Guardaci un attimo Io Nico Andiamo a mettere Una roba dietro Ok Dove la mettiamo Ci stiamo incasinando Ho paura Che dobbiamo fare Sopra Sopra Attento anche sti buchi Potrebbero essere nascosti Raga Loro Secondo me Non passeranno mai In superficie Ti sto qua Io ne dico Sto qua Ma secondo me Stanno già iniziando Ad attaccare Stanno attaccato Non devo guardare Sopra Sopra No Sopra al primo livello Ok Allora Mi dicono che di là Stanno tutti leggendo La chat Sanno tutto Quindi a sto punto Non ci credete Non ci credete Non è detto Starebbe disonesto Perché dovrebbero farlo Dai no Ok Io non la Non voglio leggere Allora Non devo guardare Ne Marci E Nico Ne Ne cosa Giusto Ne Francia e Mark Esatto Io mi sto prendendo Gli infarti No ma anche io È un horror Ragazzi Ma che sosterò Sta sta roba Ma responano Meglio così Meglio così Mark Possiamo Lo schermo Siamo troppo Ci allontaniamo Andiamo via Nico Aspetta Dobbiamo portare Francine Ascolti Dobbiamo portare Anche Le Almeno Le cose In diamanti Inciantate Ok I ragazzi Fer è sola Però C'è Come Ragazzi Stiamo tornando Stiamo tornando I Nico Stiamo tornando Dovevamo Ragazzi La cosa che stiamo Facendo Dei Franci È fondamentale Infatti Infatti Ma infatti Mi sto guardando Bene attorno Anche io Perché tanto Qui sono all'aperto Cioè non mi possono Arrivare dal nulla Allora Vi rispiego Le armature Queste cose Le ho scritte in chat Dove si trovano Ok E una cosa Una cosa importante Lì ci saranno Le cose Di nederite E di diamante Invece Nella zona Spawn Teniamo solo Le robe Basic Tanto Non ce ne frega più niente Ok Ragazzi Dobbiamo Dobbiamo creare Un piano d'azione Cioè Siamo 20 minuti Così che giriamo In tondo Io voglio Io voglio andare Un po' avanti Nico Ti ho perso Allora Facciamo così Appena finiamo Di fare avanti Dietro Con le robe Inciantate Studiamo Una roba D'attacco È l'unica Torre bassa Marci Quale Dove sei? Qualcuno di voi Se la sente Rivenire in avanti Scoperta Con me Vedo un nome Lì sotto Io sì Ma dobbiamo proteggere Fere Se volete Sto io con Fere Ok Stef andiamo Ok Fere stai con Nico Con Marci Stai con Più persone Ok sono qua Perfetto Sì 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 Dai sono a posto È il momento Di iniziare a muoverci Poi comunque Ricordati che io Ho anche forza E ho tanti curi di vita Quindi comunque Mi posso difendere Ovviamente è difficile Se sono totalmente sola Ma in compagnia Secondo me Cioè posso fare Secondo me Qualcuno dalla foresta Sta arrivando Ho questo presentimento Anch'io Anch'io Marci Io sapete cosa faccio Tanto dura 8 minuti Mi bevo subito La Fire Resistance Adesso Anch'io l'ho fatta Ce l'avete Tra 8 resistenza Io sì Non ho fatto tantissime Io non ho fatte Sono sotto Sono ancora sotto Guarda intanto prendi questa Penso di sì 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 Per me tra 8 minuti Stiamo già combattendo Quindi meglio averla ora Se volete ho anche una regeneration In più se vi può servire Allora ce l'ho Mark ho messo una cassa dietro Con le mie robe Nel caso estremo Ale io non vedo nulla Sappi Non vedi i movimenti? Zero Raga loro lo fanno per sfinimento Loro vogliono che facciamo il fed da loro Sì sì Stavolta raga Non Chi sti cavoli Aspettiamo Allora se volete Io riesco a dare un'occhiata vicino Però Cioè perché riesco a scappare velocemente Me la rischio Dalle montagne Hai speed? Prendi la speed Prendi la speed Dove ne ho una Ne ho una qua Passami la speed Vado a dare un'occhiata velocissimo Sul ponte che abbiamo fatto l'altra volta E poi ritorno indietro Vedo almeno se sono ancora lì Ok Nico Oddio non so se la cosa di fare adesso Ho visto qualcuno nella foresta No raga Ti giuro Marci Mi stai mettendo un'ansia Marci Io controllerei Indietro Che altro E fu così che Kendall morì Allora Io so che è una cosa molto pretenziosa ragazzi Però sappiate che se morite sarebbe carino Non far vedere dove si trova la cassa Con le robe Si cambia visuale raga Se volete ve lo ricordo io Sì Avete capito? Tutti quanti dove si trovano? Sì 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 Sicuri? Quanto dura sta speed 8 minuti Nico dove sei? Che sono da solo confine Sono da vedere dietro Sono da vedere dietro Vieni due secondi qua Che faccio Voglio fare una cosa Vieni Mi sto avvicinando al loro regno Voglio dare un'occhiata Allora stai confine Ma che ci devo due secondi a vedere Fate un attimo silenzio Così se devo chiamare qualcosa La chiamo Non mi sembra di vedere nulla Ma questo è il problema Che io non li vedo da nessuna parte Cioè sono col cannocchiale A guardare tutto attorno Non li vedo da nessuna parte Allora io non vedo nulla dietro di me Quindi non mi stanno facendo un'imboscata Ma non vedo nulla neanche nel regno Mi avvicino Ma nel villaggio ragazzi Dove è che c'è qualcuno lì? Posso proporre la chat Io sono praticamente nel loro regno Troppo tardi Oh C'è qualcuno C'è Robby C'è Robby nel loro regno Con l'arco Ok ci stanno aspettando lì quindi Tutti? Secondo me non tutti Non lo so Però se Robby era nella casa E soprattutto come ha fatto a vedermi così presto Anche l'altra volta ci hanno visto subito Se ti ricordi eh Sì sì All'altro attacco Qualcuno in un punto molto alto Ok faccio vedere la visualizzazione Sono in altissima Quei maledetti Ma infatti Cioè mannaggia Anch'io adesso faccio vedere Allora Robby era su una casa Robby era su una casa E al centro praticamente Con l'arco Appena appena mi sono fatto vedere subito mi ha sparato una freccia Non mi ha preso ma mi ha sparato Sto tornando su eh Nico Non c'è niente vero? Marco ma dovremmo mettere anche dei letti lì? Non mi sono Non sono entrato Eh ma dovremmo far andare tutti lì per settare lo spawn No allora no Non siamo stati Non ha senso Io ho paura che ci sia qualcuno qua nelle vicine Allora ragazzi ricordatevi una cosa Quando spawnate giù Sotto le armature di diamante base rimangono Ci sono Quindi prendetevi quelle per fare la spola Da quel punto All'altro punto Certo Ok? Ok Ti raccomando Ho slowness 4 Ho slowness anch'io Oh mamma Sono sempre peggio gli effetti Sta divertendo il big ladro Io c'ho speed ancora Io vabbè la speed ce l'ho di default per la corona però Aia Mi guardo le spalle Ho troppo paura No sì sono caduto Eh boh ragazzi Non ho idea Alzo un po' i cianchi Raga così non ci muoviamo mai però Se lo facciamo anche il primo passo E infatti ci rimaniamo un'ora fermi qua Raga ricordatevi che il primo passo Eh non è sempre la cosa migliore Eh prima abbiamo fatto perdita Ho capito ma cosa stiamo qua fino a mezzanotte Infatti Io voglio fare una cosa ragazzi Però me li aspettavo un po' più aggressivi Cioè per come è andata l'altra volta Io mi aspettavo ci attaccassero un po' più Poi loro hanno anche la spada OP del ladro Appunto Eh ma non la possono usare Nico Nico andiamo a vedere un attimino Anche dall'altra parte Se lo facciamo da quella parte lì Arrivo Perché io Cioè guardiamo di qui Ma non guardiamo a sinistra Dove non ci aspettiamo che possono arrivare Raga per me sono sotto la torre Sotto la torre Ah nel tunnel Perché c'è un endermite Qualcuno è stato un enderpelle raga Sì sì sono stato io Ok Chiamatele queste cose raga Date un occhio anche dietro mi raccomando Per me vi giuro Ragazzi Mamma mia Mi stavo di morire raga vi giuro Anch'io ho detto adesso ci muoio Nico va da derdi qua Anche qua ce l'abbiamo un ender chest Non la possiamo prendere e utilizzare Eh no deve avere sikta C'è solo una No vabbè Vi giuro raga ho l'impressione che Marci dove sei ho paura Sono andato dietro verso dove c'è il villaggio Io ho paura a stare da solo Ci vengono di capire se c'è qualcuno Secondo me ragazzi Sapete che ci inizierà a tippare uno contro l'altro A un certo punto No Eh no Sarebbe molto brutta come cosa Se ci smutiamo Se togliamo le chat di tutti E scriviamo in chat Incontriamoci al centro Eh ma tutti fidi di quelli Ragazzi L'ho messa io Ah ok mi ha fatto paura Nico io sono vicino al villaggio Io sono Ragazzi io sono praticamente sola Ci stiamo tutti dividendo Sono comprati Fer arrivo Fer arrivo Fer arrivo Fer arrivo dietro al castello invece Io 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 Camminate sempre a sinistra del castello Perché loro non lo sanno Cammineranno a destra e si bloccano lì È una kill Io non vedo nessuno comunque Se devi scappare se ti rinseguono Ok sì 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 In che senso sta cosa? Non ho capito? Eh c'è una trapola Ho messo delle ragnatele Nella destra del castello Se tu cammini a sinistra Loro Grazie ladro Perché sto scalando la montagna Io stavo scendendo la montagna in mezzo Comunque io ci sono andato in avanza scoperta Loro ancora niente Eh infatti Cioè noi ci siamo mossi Dovrebbero muovere Stanno camperando Ma No resisti mi legge Non l'ho mutato No Penso di no Perché è entrato dopo Penso che lui deve mutare Ragazzi che fatica Mi fanno male Siamo tutti insieme Dai raga Per forza Io l'unico mio terrore È che qualcuno arriva da dietro nel nether Perché è too much Stiamo facendo la figura dei codardi Infatti Ma se in due vanno dietro Scusate Eh anche loro Ma chi se ne frega Sì tutti quanti la stiamo facendo Siamo fermi così da 20 minuti E Passiamo da sinistra Dai Facciamo Però larghi larghi Riamo proprio da dietro Dal villaggio Io si coprissima il portale con l'ossidiana Dovrebbero stare con fere Da vabbè Buongiorno big ladro Buongiorno Cos'è che hai detto Cos'è che hai detto Non possiamo coprire il portale con l'ossidiana L'ho coperto con L'ho coperto con la lava Quindi ragazzi Dove stiamo andando? Da che parte? Chi seguiamo? Allora io sono La 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 Lili Ho rubato TNT Ok? Ok La 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 Lili Ho rubato Buongiorno Si vede la tua visuale Cioè è inutile Non è che sei nascosto Andiamo ragazzi Non c'è bisogno di non dirlo Io ragazzi Fere la terrei qua Ancora con tre persone Ma se sta con noi Ma è inutile No ragazzi Meglio che sia con tutti Non è con noi Che con tre Dai Andiamo La sinistra Ricordatevi che anch'io Così posso tirare frecce Posso dare una mano Ma qui sarebbe perfetto Combattere tutto piano Io passerei ancora più largo Marci Proprio dietro dietro Dal villaggio Esatto Un po' troppo Esatto Un po' troppo Una via di mezzo Ma siete al centro? No stiamo andando a sinistra No stiamo andando a sinistra Steph Oddio Steph non perdi No Staticamente ragazzi Sono sopra di voi Però non vi vedo Stavo per dire Non sperderti Cioè mamma mia Perché lui lo fa sempre Di andare da solo E poi ci muore Siamo a sinistra Della torre alta Comunque la cheat del secolo È stata Kendal Che fa ma sì Fra ottenuti Staremo già combattendo Sì sì Infatti Mi sta finendo tra 16 secondi Mamma mia Cioè raga A me sta finendo il caratto d'oro È anche io È anche io sto finendo tutto il cibo Perché poi mi viene fame A correre da una parte all'altra Avete già fatto tutto Marco In quel posto lì? Sì Avete già fatto tutto? Sì 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 Dietro avete già dato un occhio di nuovo? Vado io a dare un occhio al volo Qualcuno dietro Raga ma Domandina Eh? Voi avete Avete detto Ho preso da un anno What? Noi abbiamo Arrestato tutte le cose giusto? Mh Arrestato Ok Abbiamo fatto quella cosa segreta Vieni francese Oh Poi ragazzi Quindi ancora peggio Sì sì Candle Fatto Eh ma se hanno quella cosa che abbiamo anche noi Ragazzi Guardate il cielo Questa è la pioggia della morte Piove Saranno più giaci Da noi non piove Raga Da noi c'è la neve Probabilmente Da noi non piove Esatto Ragazzi Lotto si sta arrabbiando Ci avviciniamo per favore Dai avviciniamoci Eh ma spero lo stiano facendo anche l'ora Che non siano fermi lì Eh ma da loro Sai qual è la differenza Che da loro spavano i cavieri della morte Da noi no Però spavano i mob Oh i phantom No i phantom no No i phantom no Cicchilateli Eh ma rispavano Tranquilli Tranquilli Tranquillo Ma perché esplodevo Uh Fai attenzione Sì sì Già non mi uccide un phantom Tranquillo Raga io vado giù Andiamo dai Ma vi ho persi completamente Mi prego non posso stare un'ora qua Non fare niente Ho voglia di ucciderli Dove cavolo siete raga? Siamo sempre sotto Sotto a sinistra Non siamo tutti però Ok Ma qualcuno vuole stare a controllo il nether Niente? Eh ma come lo controlli? Sotto a sinistra dove raga? Sotto la torre vicino al villaggio Andiamo dove c'è il cannone Tanto le nostre risorse lo sono sicuro Eh andiamo dal cannone Che c'è l'iground E c'è il cannone E rompiamo la red Raga chiedete al ladro Di fare un weather clear O no? Ladro perché è abbastanza fastidioso Cioè Io non vedo la pioggia Tanto può far qualsiasi di cosa Almeno che c'è C'è talca ste cose Io non la vedo No non c'è È nel loro regno la pioggia ragazzi È molto fastidiosa Tu c'è nel loro regno stef Io non ce l'ho Io non ce l'ho infatti la torre Sono qui dietro Ragazzi È pieno di creeper È pieno di mob è vero È solo che è pieno di mob Ma siamo super equipaggiati Figuratevi se moriamo con i mob No Ci ha detto Come Tra otto minuti Staremo combattendo di sicuro Ragazzi Io sono quasi sopra Mi vedete? Sì Però Ti vedo Che vuoi fare? Andiamo raga In acqua raga Siete sicuri? Eh Bello rischioso qua Steph tu dove accidenti sei? Ferre non lo so più Ed è peggio se ve lo dico ormai Ma ti vede la gente Quindi almeno scrivete Ferre ma la gente Leggendo la chat Non capisce comunque Non si è mai avvicinato nessuno a me In dieci minuti Restiamo insieme E restiamo con l'high ground No raga Chi mi ha messo? Ho messo le ragnatele L'ho messo il ladro L'ho messo il ladro Basta Con le robe Sì 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 Io ero in F5 Non ho visto nessuno Ok Allora Distruggo il cannone Siamo al cannone di Loco Guarda sei distrutto già Per rubare la TNT piuttosto Mi ha messo uno Che povero Ragazzi Ho sgobatto io lì eh Ah ok C'è già passato Steph Ok Raga non c'è nessuno In questa base E dove sono? Ah le ragnatele No raga Che succede? Oggi stanno facendo il giro Dall'altra parte loro E facciamo il cerchio O sono andati nel nether Cos'è ci stiamo prendendo in giro Come sono andati nel nether? Possono essere due cose raga Due cose possono essere Se no Facciamo candidati nella loro base E se non ci sono Passiamo nel nether E quindi arrivi andati dietro Diciamo tutto Bravo bravo Eh ragazzi cavolo È difficile Comunicare senza poter parlare Ragazzi A cosa mi piace Dire le cose E fare veloci Io spero Soltanto che loro Non stiano leggendo la chat Dai Se sono onesti Non lo fanno Fine Io non sto neanche guardando Quanti siamo No no Neanch'io Io sono concentrata Io sono concentrata perché così è anche più Stimulante Aspetta Non fai in franaccia Non c'è la neve per la strada Avete enderpearl? No Col cavolo che saliamo da questa montagna Facciamo il giro Veloci Facciamo il giro Dimmi Vieni Vieni Un paio Vieni nico Venite Dobbiamo reggirarli Non possiamo entrare Dalla Non le ho prese Chi l'ha prese? Ah le date a mettini No no Ti tieni Io non vedo nomi Ma raga ma non c'è nessuno Raga Scusate Faccio la pazzia Raga suonati via Secondo me Enderpearl Enderpearl No 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 È troppo rischiato Ma che no Poi secondo me ci sta Enderpearl Cosa fa Mi che lo attaccano in sette Raga Sì che possono Eh vabbè Però A meno che non sono tutti shiftati Non c'è nessuno È impossibile che sono tutti shiftati È proprio impossibile Ma infatti Secondo me non sono qua Non sono proprio qua Hanno lasciato la base scoperta Allora entriamo Oh Cos'è successo? Cos'era? C'è rotto il blocco sotto i miei piedi Eh sì Vabbè il ladro Non c'è nessuno Non vedo nessuno Non c'è nessuno Andiamo andiamo Nel loro regno Non c'è niente nessuno Dobbiamo stare attenti E provare a rubare le nuove risorse Una l'uno E entriamo Mamma mia ragazzi È un po' uno spreco È uno spreco raga È un po' complicato Ridare queste montagne Poi mi scompagliano i blocchi Quindi mi peggiora ancora di più la situazione Raga non c'è nessuno da loro State attenti alle trappole qua In teoria con l'armatura in edito Non prendi un acqua Ragazzi ricordatevi che loro hanno lo spawn point qua Che significa? Che quando qualcuno morirà Se noi siamo nel loro regno Lo possiamo sponchillare qua Ragazzi c'è qualcosa che non va Non c'è nessuno Steph? Non ci sono Eh infatti non ci sono neanche qui Non sono da nessuna parte O sinistra o nether Sicuro O sono da noi Fermi 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 Ho pensato una cosa Mettiamo dentro la casa di Xiao C'è il portale da loro sicuro No raga dove è il magazzino Loro lo sapete? Ragazzi qua ci sono dei blocchi droppati Vuol dire che sono andati via da qua Da almeno quattro minuti fa Raga Sono per fiorcio nel nether Spaccate per terra Prima di far Mettete la lava nel portale Sono bloccati nel nether a questo punto Una cosa migliore raga Gli togliamo i letti Eh ma non È un po' scorretto No Kandal Poi dove spawnano No aspetta Dai no vabbè Così mi sembra un po' eccessivo Lì c'è la zona Occhio Raga il magazzino loro non sembra esserci nessuno Raga sono qua dentro Lava Metti la lava qua Non c'è niente nelle ceste Non c'è niente Non sappiamo che le loro magazzine Questo è il problema Io so dove c'è la parte nascosta raga Lo so quando mi era infiltrato da spia Venite 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 Ragazzi io sto starete in una base su un albero Almeno una visione Oddio Steph ho bisogno di te Io lo odio sto regno Ragazzi fere non da sola Perché penso che sia qua Dove a fare? È tipo Sull'albero Sì è qua È dentro la bottola È dentro la bottola Con qualcosa Il controllo di queste botte Ma non so dove c'è una parte C'è non Ho solo denunno Date agente alle trappole ragazzi Qui sotto raga guardate trovato Trovato Occhio Vado Potre esplodere tutto Mamma mia Per me ragazzi Per me lo fanno e stanno tornando Facca su Secondo me Io so dove la cessa segreta È qua Dove? Ah lì dietro Togli gli lente Non c'è niente Ho beccato qualcuno Toglietele e prendete la volta Speri a chiaperti Tutti i lati È quello che sto facendo Ragazzi provate Anderci e spoglietele Non sembra esserci nulla Raga secondo me Il loro sono Nella nostra zona Raga facciamo una roba Tiriamo dritti Adesso ritorniamo da noi Sì conviene Conviene tornare da noi Tiriamo dritti Saperché No Raga Cosa è successo? Hanno lasciato qua la spada Rubala 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 Stai scherzando? Non me ne frega niente Rubala Ma non credo sia questa Non può essere questa No non penso Tu prendila lo stesso Magari è un diversivo Prendila Prendila Magari è una trappola È quella che era da rompere ragazzi Non lo so E infatti Ragazzi Ragazzi Ascoltatemi un attimo Noi volevamo che loro andassero Dalla nostra parte Per fare il fight Adesso loro sono da noi Eh c'ha ragione Marco Ragazzi Secondo me Se non ci hanno trovato Stanno tornando indietro Dobbiamo essere veloci Ragazzi È fondamentale tornare al volo Esatto Ragazzi Ok Passiamo La montagna sinistra Passate sul ghiaccio Passiamo dalla montagna in alto Come dice Kendall Perché ci può sorreste cose nascoste Correte però ragazzi Perché allora Se non ci hanno trovato E sicuramente Sono nel nostro regno Ora stanno tornando indietro ragazzi E noi non vogliamo combattere qua Velocissimi ragazzi Ragazzi ma poi così Noi torniamo indietro Loro arrivano in avanti E poi No ci incontriamo a metà strada Eh ma come puoi sapere da dove arrivano Ma li incontri dai Li vediamo Ragazzi No non li incontriamo ragazzi Certo che li incontri No no E però stiamo giocando il giro A me non piace questa idea ragazzi Cosa volevamo Cosa volevamo noi all'inizio Che combattessimo Nel nostro regno Se loro sono nel nostro regno Ma ragazzi Ma nel tempo in cui arriviamo Non ci sono più Non è vero Non è detto No secondo me Non sono ancora arrivati raga No per me sono arrivati Secondo me stanno facendo I tunnel sotto Tipo nuovi Qualcosa del genere No no però ragazzi O nether Ragazzi sono da Affidatevi Secondo me Rassiamo allora raga Infatti andiamo Infatti stiamo rassando Ragazzi Pozioni strength Avete pozioni splash di frs Che me ne ho No però ne ho in più se vuoi Tieni qua Dove sei? Dietro Tieni Neanche un'altra se serve Sì Neanche un'altra se serve Lasciatemi quella Lasciatemi quella Marco grazie Io non ho la frs però Io non ho preso strength Ma no Ne avete una in più? Sì Indietro di te Se ha troppi Tieni Siete già alla mesa? Grazie Sì sì Siamo di fronte al nostro regno In pratica Ah ma loro sono qua eh Lo so eh Anche secondo me sono qua Io me lo sento Questi staranno rubando Dentro qualche nostra casa Ve lo dico di nuovo Ragni a terra No No Loro potrebbero aver trovato Il nostro Quindi loro sono in vantaggio Mondaggio Dipende Perché se sono tutti lì dentro No Ricordate ragazzi Anche te le dà Sempre Archie sempre Era un nome raga Dov'è? Mi sa che ho visto un nome raga Non so se era Marco Mi sa che ho visto un nome però Dove? Dove? Lì dove c'è Dove sta andando Marco? Sì sono là vedo un nome Sono dentro Lo avevo detto Lo avevo detto Andiamo andiamo Fidatevi Sono dentro Vedo Era ovvio Vedo che noia Vedo che noi Sono tutti quanti qua Sono tutti quanti qua Davanti Preparatevi ragazzi Preparatevi alla guerra Preso Un po' Ti ha poca vita forse No e Roby Roby Stati attenti Andate di arco Sempre di arco Mi raccomando Tenetevi Da qui Aiuto Guardatevi le spalle Ogni tanto Faccio un giro nel magazzino Al volo A prevedere Sono venuti dal Secondo me Hanno rubato tutto Hanno spaccato tutto Te lo dico Ah hanno rotto qualcosa Hanno rotto le chest Ragazzi Ho preso l'Orensist Ok Salvo tutto Salvo tutto Eccoli ragazzi Sono tutti qua Oh mio dio Mi tremano le mani Sono tutti qua ragazzi Avevo ragione Stef mi dice Ma no non è bello Con il tuo piano Chi vince Ma non è bello Ma non è bello Ma non è bello Creepy Bandina la lava Bandina la lava Dove sei Puscia 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 Marcis Venita Centro Cello Salvando le robie Ragazzi Nelle chest Andiamo Andiamo Nico Andiamo In Le frecce Tanto Vai Giascia Così Ragazzi Scusa Marci Ragazzi Al centro Ragazzi Sono tutti Dietro Casano È un 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 Io sono Colpiti Colpiti Grande Lo cocio per resistenza l'ho preso con l'arco Bella faccia Bella faccia Bella faccia Solo andiamo Colpita che noia Colpita che noia Bella faccia Colpita che noia Mark Avviciniamo Ad avanti Triplate Bella faccia Lo prendo Lo prendo Andiamo Tutti su Bella faccia Lo colpito Non so come Dai Mark Dai Ragazzi Mangia Loco Quindi occhio che sono un po' indietro Bravissimi Ci sono Ci sono Ci sono Sono Dietro Di Nico Se ho colpito Tre volte Contiamo Gli altri Ragazzi Sono tutti Da me Attento Sono Loco Guarda me Torno indietro Torno indietro Diamo pochissima vita Ti ha preso due asciate Torno indietro Bravo No Non so Torno indietro Ragazzi Ho colpito Bella faccia Ragazzi Ho bella faccia Adosso Marcia Fatti Forre Ci sono Da far fuori Ci sono Da colpire Bonita Bonita Rosso Da Fede Mi ha velenato Arrivo Vaga Dove sei Chiamami Dove sei Fere E qui Ragazzi Bravissimo Bravissimo Ragazzi Batte da me Dove Siete Raga Forza Ragazzi Affianca a casa mia Però mi uccide Arrivo 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 Mangia la menopina Il caso Fere Si la mangio Marche Domino Mano Ok Ci siamo Qui Lo vedete Ragazzi Li massacriamo Qui Ragazzi 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 Gli ho dato Un sacco Di colpi No 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 Dopo la faccia Franchi Dove Mi sa Che sei Dato Con Noia Che noia Che noia Che noia Full Prendi bella faccia Prendi bella faccia Io non ho Ender Che raga E' incastrato Incastrato Ragazzi Robi One it Tipo E' salito Su Vai Vai Grandi Ragazzi Bravino Scappando Batte Aiuto Bravino Sì Ragazzi 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 Arrivo Rebassato Rebassato Scappando Calenda Perle Ok Bravissimi L'ha colpito Non conta la morte Se non prendete la corona Non la trovo Non so dove sia Se lanciate la calendar Ragazzi Cercate tutto La corona Ragazzi E qui E qui Prendi Prendi La spada La corona Ragazzi Prendi la corona Ragazzi Ragazzi Mi dite dove Siete Per favore Praticamente Dove L'avete La messa La corona Mi inchino Mi inchino al big Grau Scuro Siamo i nuovi Reb Big regina Big Grau Ti difendo io Ti difendo io Tranquillo Stef Andiamo 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 Marco è morto Si è bloccato E' paralizzato Sapete chi ha zero morti ancora Eh no basta Ragazzi è finita Abbiamo vinto la battaglia E quanti Chi l'hai fatto Stef Mamma mia Che cacchio Mi ha fatto Mi sta esplodendo un cuore Dall'ansia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Arriva 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 Voi pensate Ragazzi Quando io stavo combattendo Con bella faccia Evo il big ladro Che mi spavava Ricordo che tu hai zero morti Ma che paura Qualcuno ha scritto Tre morti Non ho capito Che erano un messaggio rosso Che sono tutte le morti Non ho letto Eh ti ricordava le morti Quante morti hai Sopra l'inventario Eh beh ma è morto Abbiamo vinto Cioè chi prende No allora Allora abbiamo sempre detto Fin dall'inizio Che sono sei vite Per gli altri Per i re È lo stesso Ma se ti viene presa La corona Hai perso L'abbiamo sempre detto Ragazzi Fere abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ragazzi mi è venuto Mal di pancia dall'ansia Allora ragazzi Io ve l'avevo detto La tecnica migliore Era quella Di farli venire da noi Sì Le abbiamo aggirati E sapevamo Io ve l'ho detto Io ho fatto vedere Il magazzino Per quattro giorni Perché volevo Che entrassero lì dentro Infatti quando non gli ho visti L'ho detto subito Torniamo indietro Che li freghiamo E sto che vi dicevano No no Che poi loro Ho avuto ragione Guarda Ho avuto ragione È stata una tecnica migliore Io ringrazio Marco Che gli è venuta l'idea Di spostare tutto Senza dire niente Grazie a Marco Ragazzi E infatti Gli hai fregati così Mark Ragazzi Io ve l'ho detto La battaglia Da quattro giorni Che c'era nel cervello È un generale Per un motivo Attenti Attenti Ma fermati Ma fermati Mi stanno tutti uccidendo Loco Mi vuole uccidere Raga Sblocchiamo Andate giù Su TSD Qualcuno vado giù Ma che vi frega Distruggiamo loco Tanto a casa Quando torneremo a casa Abbiamo tutte le armature Buone Lì Quindi ragazzi Ma chi sta Ora torniamo a casa Da vittoriosi Abbiamo vinto Ragazzi Ho perso tipo Dieci anni No Le uccisioni quindi Quali sono Franci Io Nico Marci Mark Franci Franci Con la donna No io ragazzi Ero sola con bella faccia Che non moriva Lì ho panicato un botto Però ho resistito Per fortuna Ma mi aveva tolto Un botto di cuori Perché poi mi avvelenava pure Capito Io non mi potevo togliere Gli effetti Perché Ovviamente Non posso usare il latte Quindi Che bella Però Riuscita a resistere È da vedere Nei canali di tutti Mamma mia Veramente Vedere tutte le prospettive Di ogni prospettiva Sì sì Abbiamo rotto tutto Comunque Non so a livello di spect Quanto siete voi Ma Qui siamo tanti Qui siamo a 31.000 Qui siamo a 10.000 Io a 1.000 più o meno Non so quanti sono Bellissimo Mamma raga ve lo giuro È quattro giorni Che ho la battaglia Nel cervello E doveva finire così Ed è finita così Oh Roby sta andando Nel nostro castello Che fa? Oh 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 La viennì La viennì Sì Non ci credo Sì siamo tornati a casa Non ci credo Da quanto tempo Dov'è casa mia? No che bello Sì Tutti in chat Sì Siamo a casa Però scusi signor ladro Io avrei lasciato il cacao Volevo riportare a casa Il loro item Ho anche lasciato il mio cacao Infatti Ho per dire Però vorrei Vorrei riavere il cacao Grazie Allora Ragazzi Siamo al centro C'è un piccolo quesito ora Sì Io Il bigram Esatto Perché ci siamo io e Fere ora Combattimento finale? No Perché tecnicamente Qui deve rimanere Non lo so Una corona Quella del dreoscuro È caduta Ovviamente Io posso accettare il fatto Di essere sotto a Fere Per me non c'è nessun problema Ma se fondessimo le due corone Per crearne una Invincibile Ma il bigradro non dice niente Mi pare strano Eh infatti Dovrebbe darci Perché anche secondo me Andrebbero fuse Per crearne un'altra Esatto Che ovviamente teniamo noi Perché abbiamo vinto noi Ragazzi comunque io ci tengo a dire Bravi anche la squadra avversaria Siamo tutti amici Siamo tutti amici Ci siamo divertiti tantissimo Certo Certo Ma è ovvio dai Siamo tutti tranquilli Mi attacca Stupido pollo No ragazzi davvero Mi è venuto mal di pancia Putacchiotto Mi sono tornata a casa Che bello Ciao Ciao ragazzi Che arriva Ciao La mia megatorre Come stanno i gatti Arancio Sono tutti bene Stanno andando a vedere È stato un mese intenso È bellissimo Mamma mi eravamo tantissimo tempo Lontani da casa Ragazzi vi è piaciuto questo mese Questo evento di un mese Cioè dai Per me sicuramente è piaciuto Mi ero dimenticato 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 che esiste E' dimenticato No No poverino È l'ennesima volta che mi ricordo che esiste Bellissimo Mamma mia Mamma mia ragazzi Che spettacolo Che evento incredibile che abbiamo fatto Mamma mia È iniziato un po' lento Perché eravamo tutti titulanti Ma la battaglia è stata bellissima Guarda Bellissima Un applauso al ladro Veramente Ha creato una cosa scurda questa volta GG GG raga Bravi a tutti Bravi a tutti Mamma mia ragazzi Ottima Veramente ottima Madonna che ansa Mamma mia È durata poco raga È durata tantissimo È durata tantissimo È durato due ore di ansia Sì Sì Eh perché comunque Anche se non abbiamo toccato Ha attaccato subito Dovete contare che quella era comunque Tutta preparazione Perché Mark ha spostato Esatto Tutti i nostri equipaggiamenti migliori Quindi non è che eravamo fermi A non fare nulla Anche quella è stata tutta preparazione Che anzi Ci ha portato alla vittoria Perché poi nel magazzino Non hanno trovato quasi nulla Raga Nel magazzino Io poi sono andato giù Mentre voi fightavate A sistemare il magazzino E loro nel magazzino Hanno trovato solo le pozioni Mamma mia E hanno spaccato solo le casse delle pozioni E infatti È stata quella È una tattica vincente Quindi sì È durato tutto tanto Perché c'è stato anche tutto Il trasportare le cose Che è stato fondamentale Secondo me Pere mi dicono che Cacao è morto No Mi dicono che l'hanno ucciso No Scusate Il cubo che è ancora lì? No allora Nel caso Nel caso Io qua faccio un appello Al big ladro Siccome è colpa sua La battaglia nei nostri regni Lo riporta in vita Non mi interessa Lo riporta in vita E ora va a trovare a casa Grazie big ladro Oppure Puniamo chi l'ha ucciso Chi l'ha ucciso? Chi è stato? Eh non lo so Ho detto solo che è morto Eh ma qualcuno lo sanno Vai andiamo giù Vai andiamo a parlare Andiamo a parlare con tutti Ciao 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 bellissimi Ciao ragazzi Ciao ragazzi È stato veramente stupendo Che bello Lunga vita la regina Grande Quindi abbiamo risolto così Io rimango regina Ah Boh sì Scegliamola adesso Allora mi frego un po' di cose Stempo Mi immagino Fere seduta Che sulla A Alza le spalle E' già E' andata proprio così Io raccoglio un po' di cose Le due coroni subiranno Attenzione Per forza Io la voglio provare Appena si Marche non vorrei La corona La regina Non mi picchiai Ti prego Allora su paypal Ce la mettono a legge Siamo Come è stata la sniperata Dall'alte Io non ti voglio Non ti voglio Ma Io voglio vedere Siamo quanto ci avevo lasciato Tipo un cuore Voi non avete capito Come ci siamo arrivati Da voi Lì dietro Io dico Non ce l'ho fatta Finalmente sono riusciti a scappare Oh non vedo nessuno Mi arriva una cecchinata Da dietro Tipo manco su No Ti ho fatto il crit Con l'accetta Che toglie 13 Con forza Vorrei dire che Posso dire solo una cosa Scusa Che toglieva di più L'accetta di marci Che la mia spada Sì Boh comunque sì La spada di Rega la spada della rovina Fa schifo Io l'ho usata Con trovella faccia Non le faccio Non fa danno Fa più danno Una spada normale Io non ho neanche Ragazzi Perché c'è una cesta Con dentro una cesta Ha ragione Questa cosa è magica Ma Ho fatto io Tempo fa Mi sa Vabbè Quindi si diranno le due corone E come facciamo caro ladro C'è Scusa Marco Puoi togliertela per favore No no Dalla ferra Dalla ferra Io sto bene così No no Devi darla a ferre Non preoccupate Io vi ricordo che comunque la battaglia Cioè La corona secondo me Di consegnarla al re Poi Quando voi non sarete Più in giro La darò a ferre Ragazzi siamo tornati indietro Abbiamo perso Consegnala Signor Bigladro può far tornare il castello vecchio Così Non lo voglio più il castello Quello va ricostruito da capo Mi piace No no Il signor Bigladro è molto gentile Ragazzi È il Bigladro sempre Ragazzi Mi ha fatto morire Ragazzi dalla testa Un pochino artificio Ma ora Chiedo per una E ora Ora penso ben finito Ora siamo tutti amici Di nuovo No Non credo Che questo Si segna di amicizia Loco Scusa Scherzavo Scherzavo Eh vabbè raga dai No è stato In chat Da noi Stanno chiedendo di far inchinare Buddy di fronte a Fere A me mi stanno solo insultando raga Quindi grazie per il perplay che mi stanno insultando tutti Ho una domanda Va bene Buddy hai ucciso cacao? Cacao? Mi dicono che è ucciso cacao Cos'è cacao? Scusate Il mio axolot Ma va Ma è poi il piccolo cavallero scuro Questo è il mio Guarda Tanto raga fin quando non trovate l'axolot raro Quello blu No no Mi piaceva cacao Ormai ha una storia dietro Oddio Ma se succede? No allora cioè puoi lasciarmelo per favore Già l'unica cosa che mi rimane Che mi son portato via Posso bruciarlo raga? Vieni guarda Fai quello che vuoi Tanto Ormai Ah no in chat mi dico Che cazzo l'ha ucciso Buddy L'ha ucciso Buddy cacao mi dicono Ma io non ho fatto nulla raga Ma perché l'ho ucciso Devo sfogarmi Allora io invito i miei fatti Mi fanno riportare le progetti di tutti Perché secondo me sarà una fagata assurda Ragazzi c'è un problema Dopo mi è ucciso Io sono tornato nel vecchio regno Come chi mi riporta Eccolo qua A fare un'altra guerra adesso Da solo Forse la vincita Cammina Ciao tranquillo Sta parte qua la tagliamo Aspetta 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 Allora stiamo qui Io e Buddy Io vorrei solo dire una cosa Ci vuole il fair play comunque In queste cose Per la chat mia Allora Allontanatevi un po' ragazzi Lasciate noi due Esatto al centro Distanziamento sociale Ok perfetto Dammi la corona Ciao Ciao Lorenzi come stai Ladro hai sbagliato Ragazza È stato successo da che noia Dicono qua in chat Tutti l'hanno ucciso Abbiamo stati tutti Ragazzi Tutti insieme In chat Dicono Io mi puoi dare Carmela Chi è che aveva Carmela Mi serve Carmela Non un secchiello È quello che ne rimane Aiuto Scusate Dei problemi A quanto pare No 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 Ma c'è un bagno lì sotto Aiuto Ok Cosa devo fare Si deve inchinare Deve ritagli la corona Marco se continua a tenere Non ho capito ragazzi Allora Allontanatevi Allora Allinare Ma credo che si debba inchinare Eh basta Sono Cioè più che inchinare Sembra che stai facendo altro Però In senso Ma non c'era bisogno Dai In segno di sconfitta Potete È avvelenato Io volevo Io volevo Fare in segno di sconfitta Lasciare due cose Ok Questa La spada E il piccolo cavaliero oscuro No No Ma chi è Ma è troppo carino Il piccolo cavaliero oscuro Secondo perché Primo è morto in battaglia Ti do un fiore Grazie Primo è morto in battaglia Ma povero Il primo è morto in battaglia Laga è morto da combattimento Ma che cosa è sto rumore L'ultima cosa Marco dammi la corona Tanto gliela devo dare a fare Va bene Va bene Va bene È l'ultimo È l'ultimo gesto Che farò Un po' di roba È gigante È gigante Signori Io ufficialmente qui Firmo la mia sconfitta Un applauso per Batti Grazie Ma perché sei tutte inederite Io sono diamante Vabbè Ciao a tutti Eh batti Sono andata a ripenere la mia Mettura Tieni batti Aia Dove sai cos'è Grazie Non lo so tu bevi Mettila Ragazzi Posso chiudere L'auto la facciamo a testa Qualcuno taglia in silenzio cringy In editing Scegliete uno dei video Taglia 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 Ciao a tutti Vabbè Io mi metto a chiudere Io chiudo ragazzi È stato un piacere Vado a farmi l'auto una sola Dio Io chiudo Mi sono mutato Non sento più nessuno Ah È finita così Che bello Aspetta Sta succedendo qualcosa Cioè Ho visto uno sbrillucicchio strano Attorno a me Me ne stavo andando Eh anche io Guarda Cosa Non mi vedi Ah Non vedi che mi sta succedendo qualcosa Steph È finito No no Prima è finito E poi è riniziato Io l'ho detta Che non è finita così eh È finita E cos'è questo sbrillucicchio Non lo so Aspetta altri due minuti Vediamo se succede Noi mentre torniamo a casa Esatto Vediamo se succede qualcosa Che mi manca la mia casetta Cavolo Mannaggia Tatà Tatà Ah È stata ansiosa Sta battaglia Molto Molto stressante Poi soprattutto Quando io sono rimasta Con bella faccia da solo Ho detto qua ci muoio Perché non moriva lui Non moriva Ma nessuno di loro moriva eh Esatto Erano super resistenti Quindi Mamma mia Io quando ero sola con lui Ho detto cavolo Mo ci muoio Perdo la battaglia così Perché Ovviamente lui mi ha attaccato Tutti erano da un'altra parte Mamma È stato proprio Un stress incredibile Un stress incredibile Stai sviluppicando di nuovo No non mi è più successo nulla Quindi comunque voglio almeno Rivedere la mia casa E poi chiudere così Che non la vedo da tantissimo tempo Che bello Sto sentirello blu Che bello Penso che magari abbia bisogno Di un po' di tempo Per fondere le corone Cioè non penso che sia una cosa Guarda ci sono anche Questi lasciati in mezzo Dicevo non penso che sia una cosa Che si può fare in due secondi Non lo so Eh no Cioè fondere i due poteri Se non è che proviamo a metterle Tipo in crafting table assieme Ma non penso che succeda nulla Se vuoi ci provo Si sa mai Vediamo Ma ne dubito fortemente Non penso che sia così semplice Ah Finalmente la casa Allora vediamo Noi ho una qui E l'altra qui Che sembra? Niente Steph Niente? Non da nulla È che ora Non la posso indossare Perché Faccio un casino Cioè faccio esplodere qualche animale Dovrei andare lontano Per rindossare la mia corona Quindi ragazzi Non funziona Sommare le due corone Nella crafting table Esatto Non va Però comunque In questo momento Ferre possiede Entrambe le corone Dicono anche Dropparle assieme Guarda io ci provo Aspetta che mi è lontano Però secondo me no Guarda A parte che le riprendo Aspetta Allora spariscono No succede nulla Rischiamo solo che scompaiono Quindi è meglio che le tengo Dai dai Bello Steph Sei felice? Beh Io molto Avevo un'ansia incredibile Per questa battaglia Perché magari va male Perdiamo tutto Invece sono felicissima Alla fine comunque L'avere il re Diciamo attorno È stato svantaggioso Per loro Perché nel momento in cui Si sono trovati In diciamo In inferiorità numerica Erano messi male Sì Quindi non era Una strategia così intelligente L'abbiamo fatta anche noi Poteva essere un errore Diciamo che ci siamo salvati Anche io guarda che poi Sono rimasta da sola Cioè se mi avesse ucciso Alla fine sarebbe andata male Sarebbe andata male In un altro senso Perché avrebbe preso La corona Bella faccia Casino anche quello Ciao Parci Ciao Come stai? Lui è qua Tutto il tempo Da solo Finalmente La mia casa Dopo tutto sto tempo Dimenticato Ragazzi non penso Che funzioni l'incudine Cioè io dubito Che sia così semplice Fondere le corone Quindi per ora Preferisco lasciarle così Vediamo se poi farà qualche Magheggio strano Il big ladro Magari ha bisogno Di un po' di tempo Perché non funziona così Non puoi mettere due corone In un'incudine Io so solo Che sono felicissimo Di essere tornato Nella nostra zona Anche io Assolutamente sì E poi siamo in 1.17 Quindi è tempo Di fare un sacco Di belle cosette La casa dei gatti Ci ho messo una live intera A costruirla Che bello Rivedere tutte le nostre cose Ti ricordavi di Dimenticato? Sì certo Davvero? Dimenticato Arancia Che poi all'inizio Ti ho detto solo Nina e Camille Però certo Poverino Eh vabbè Per quello che si chiama Dimenticato Cioè quando sono salito Ho detto Ah esiste anche lui Capito? Poverino Sei grave Poverino Ma è per quello Che si chiama così È strano tornare qui dentro Mi fa Non mi sembra più La nostra zona È stranissimo No dai Così tanto no Io sono proprio contenta Cioè non vedevo l'ora Di tornare Ah che bello Vedere sputtacchiotto lì C'è un altro cavallo E quello era il figlio Di Garibaldi Con Macchiolina Eh penso proprio di sì O qualcosa del genere Non ho scritto Ciao sputtacchiotto Hai difeso bene? Sì 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 Non c'era nessuno Tanto No 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 Lui è un campione Prova a buttarle nella lava Mi sembra un po' Pericoloso Così le distruggi Cioè rischi che poi Rimangano zero corone No no Aspettiamo Direttive del Big Ladro Secondo me È la cosa più importante Tanto comunque Entrambe le corone Ce le ho io Non scappano da nessuna parte E va bene così Assolutamente Assolutamente Dai ragazzi Direi che ci fermiamo È stato veramente Un evento Fighissimo Sì molto Solo tra noi e Kendall C'erano 60.000 Spettatori Per più di un'ora E più tutte le altre live Di tutte le persone Che erano su Twitch E così via Probabilmente eravamo 80, 90, 100.000 persone Wow A guardare questa battaglia E questa cosa ragazzi È veramente incredibile Quindi grazie mille A tutti quelli Che hanno seguito Sia da noi Che negli altri canali Siamo super mega felici Che vi sia piaciuta Che sia finita La big guerra Adesso si tornerà Spero qualcosa di più normale Dipende Da cosa decido Di volta il Big Ladro Però speriamo di tornare Veramente alla normalità E nulla Domani ci vediamo con i video E domani Probabilmente uscirà già Un video della big vanilla Per festeggiare Per vedere cosa succede Con la corona Insomma Vediamo un pochino Tutto quanto E niente Vedremo cosa ci aspetta Nella big vanilla Da ora in poi Sono super mega curioso Ma comunque Sono felicissimo Perché abbiamo la 1.17 Quindi sono super mega curioso E abbiamo vinto la guerra Meglio di così E abbiamo vinto la guerra Quindi si va veramente Alla grande Anche se è per regina Lo sapete che è pericolosa Quindi No sono tutti felici Steph Lo dicevano tutti Tanto io preferisco te a Steph Quindi va benissimo Che ci sia tu come regina Lo stavo dicendo Questi commenti li ha letti solo lei No no li ho letti Gli ho letti Va bene va bene Ci crediamo Ci crediamo E niente Ci fermiamo Buona serata Buona cena Buon tutto Domani appunto Big vanilla su Tipoc Quindi preparatevi E niente Buon divertimento